Abbiamo questo contributo registrato con una breve intervista che è stata fatta all'assessore Gian Pedrone, Regione, proprio assessore all'ambiente, anche egli, e quindi magari io sono quattro contributi, registrazioni di quattro risposte a quattro domande che ci sono state poste, le vedrei una alla volta, se è possibile, così sentiamo anche il contributo della Regione. Quindi sostanzialmente la prima domanda che era stata posta all'assessore Gian Pedrone era la seguente, a Genova le concentrazioni di ossidi e di azoto sono costantemente al di sopra dei livelli di contaminazione massima consentita dalle direttive europee. Questo fatto non solo comporta il pagamento di pesanti multe per le infrazioni alle direttive, ma è certamente causa di gravi danni alla salute della popolazione. Gli inventari delle emissioni del Comune di Genova, ancorché non ancora aggiornate, segnalano il traffico urbano leggero e pesante, compresi gli autobus delle linee urbane, come una rilevante causa di questo fenomeno. Quali sono i programmi del suo assessorato e più in generale della Regione Liguria per controllare e ridurre queste specifiche fonti inquinanti, un po' quello che abbiamo chiesto anche all'assessore al Comune. Gli ossidi di azoto sono un problema per Genova, per tutta la città di Genova da molti anni. Credo che negli ultimi anni si sia veramente svoltato da questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda prima di tutto la qualità dell'area, quindi i rilevamenti che queste centraline devono fare per cercare evidentemente di dare dei dati certi alle popolazioni. Lo abbiamo fatto rilevando tutta la centralina tecnologica che era in dotazione alla città metropolitana di Genova, l'ex provincia di Genova e credo che sia stato un investimento molto significativo ed importante nel 2017. A seguire, Regione Liguria ha varato una direttiva per le città sopra i 20.000 abitanti, quindi Genova, La Spezia, che hanno superamenti importanti di biossido e di azoto in particolare. Sono direttive che cercano e tendono a una riduzione di queste emissioni, soprattutto al traffico veicolare, i motocicli che sono stanti, obsoleti e che tendono ovviamente di qua ai prossimi anni a una sensibile riduzione su questo tema. Credo che lo sforzo fatto da Regione debba essere seguito anche dall'amministrazione comunale, cercando di spiegare a tutti i cittadini che ne trarranno anche un disagio, che svoltare pagina dal punto di vista dell'approccio culturale e ambientale è un qualche cosa che va nei confronti della tutela anche della loro salute, come quella di tutti gli altri cittadini genovesi e spezzini e credo che sia maturo ormai il momento per capire che bisogna assolutamente affrontare un tema che, peraltro, se non affrontato, darebbe alla nostra Regione, come ad altre Regioni d'Italia, anche un'infrazione comunitaria, in senso quindi monetario, che non ci possiamo assolutamente permettere. Prima di lanciare la seconda domanda che abbiamo fatto all'assessore e la sua risposta, mi sembra che Federico Valeri avesse qualcosa di cui parlare e quindi gli passiamo la parola, intanto movimentiamo anche un po' la… Ascoltando un accendo, si è parlato di centraline, avete la possibilità, magari quando adesso andrete via, di controllare i risultati di alcune centraline, sono tre centraline messe dall'Ecoistituto insieme al Rinascimento Genova che stanno monitorando le polveri sottili proprio in questo momento a fronte del ponte e sul lungomare Canepa, che è un'altra di quelle strade problematiche. Ci metto un piccolo contributo, stiamo controllando la qualità di queste informazioni, la nostra impressione è che siano veramente affidabili e l'idea era di mettere insieme questa informazione che è monitorata proprio sui balconi di tre case. Siamo in attesa di altre sette centraline perché vorremmo, come l'assessore ha accennato, monitorare le emissioni delle portuali, che è un tipo di misura che oggi non è disponibile anche perché le centraline, quelle ufficiali, non possono essere messe sui balconi delle case. Quindi ripeto, quando andate via, date un po' un'occhiata perché vedrete in tempo reale cosa sta succedendo in queste tre zone della città. La seconda domanda che era stata fatta all'assessore Gianpedrone era la seguente. L'inventario delle emissioni inquinanti nei territori comunali è uno strumento fondamentale per individuare gli interventi a cui dare la priorità per garantire il rispetto dei limiti. Tuttavia l'ultimo inventario Ligure è datato a 2011. Ci sono novità al riguardo? Stiamo lavorando per cercare di aggiornare nel più breve tempo possibile quello che è il panorama delle emissioni che possono essere potenzialmente nocive o nocive per i cittadini Liguri. C'è un lavoro molto importante che parte, come ho detto prima, anche dalla rilevazione, dalla strumentazione che deve essere adeguata per poter consentire appunto a tutto il nostro apparato tecnico di poter aggiornare questo inventario, renderlo più attuale possibile e soprattutto capire quali rischi ne derivano dall'aggiornamento che stiamo facendo. Io credo che sarà un lavoro ancora di qualche mese, però è una situazione che stiamo affrontando direi nella stessa modalità con cui con grande attenzione stiamo portando avanti tutte le politiche in tema ambientale. La terza, che si riferiva soprattutto diciamo alla riduzione dell'inquinamento, quindi alla possibilità per il cittadino di utilizzare mezzi di trasporto moderni ed efficienti e quindi estremamente attenti all'ambiente. Quindi, come l'abbiamo detto precedentemente, i gennavesi si muovono in auto e in moto soprattutto. Ecco, la Regione che cosa ha all'orizzonte per permettere di raggiungere questo obiettivo il prima possibile? Penso di sì, perché evidentemente abbiamo iniziato un percorso che ha come obiettivo anche questa evoluzione, io dico, culturale e tecnologica. È certo che bisogna lavorare anche con incentivi che possano essere per il cittadino e anche per le società di trasporto pubblico per cercare di rinnovare il parco mezzi. La nostra indicazione ai comuni sopra i 20.000 abitanti dice proprio anche questo, cioè che tutti i contributi che Regione Liguria erogherà da adesso in avanti al fine di rinnovare i parchi mezzi per i privati e per i mezzi pubblici sono vincolati al fatto che si sviluppi sempre di più una cultura per le nuove tecnologie, magari a basse emissioni come dagli Euro 6 in poi per quanto riguarda i mezzi privati o addirittura arrivare anche ad acquistare mezzi e emissioni zero, che è l'obiettivo principale. Se ci crediamo credo che sia il primo passo per provare a dare un contributo anche culturale di approccio alla materia, ma certo che non mi dimentico che ci sono delle difficoltà economiche per tanti cittadini liguri nell'affrontare spese nuove che vanno nel senso ovviamente più buono del rispetto dell'ambiente, quindi è giusto che la Regione ci sia con dei contributi a pubblici e privati vincolati a questo tipo di indenizze di valutazione. Una piccola chicca, noi abbiamo già esentato per chi acquista un'auto ibrida dal pagamento del bollo per 5 anni tutti i cittadini liguri che acquistano appunto un'auto di questo tipo. L'ultima domanda che era stata fatta a Gianpedrone si riferiva nuovamente appunto a, come abbiamo parlato adesso con l'assessore al Comune, l'utilizzo del mio metano per il trasporto leggero e pesante. La Liguria fa analino di coda con pochi impianti di rifornimento di metano, stanno aumentando i progetti relativi all'utilizzo di questo combustibile. Ecco, la Regione Liguria è in programma iniziative per promuovere la produzione e l'uso del biometano per il trasporto privato e pubblico sia nelle aree urbane che in quelle metropolitane? Non posso che partire da una considerazione della sua domanda. È evidente che nel tempo non si è pensato a questa tipologia di utilizzo anche, come dire, di un qualche cosa che va certamente incontro alle esigenze ambientali future. Ci sono pochi impianti, sono dislocati male sul territorio ligure ed è interessante il collegamento con i cosiddetti biodigistori che la Liguria sta sostenendo in tutto il territorio per cercare di rendere ovviamente il ciclo dei rifiuti dell'organico autonomo. È chiaro che questi impianti ad alta tecnologia producono biometano e quindi inevitabilmente si creerà, io spero, una catena virtuosa che porterà anche a nuovi impianti che possano consentire a cittadini e anche a mezzi pubblici di potersi appunto dotare di mezzi che sono alimentati con questa tipologia di combustione. Credo che sia importante ragionare anche di sfide del futuro. Il fatto che lo faccia l'assessore all'ambiente con il tema di impianti altamente tecnologici come quelli che sono definiti oggi biodigestori credo che possa essere veramente una sfida anche per altri settori e quindi anche per le aziende che gestiscono il servizio pubblico dei trasporti nella potenzialità che potrebbe esserci nel tempo di sviluppare anche appunto questo tipo di nuova tecnologia.